Grazie. Due ospiti per volta e un'atmosfera pacata e cordiale sono le caratteristiche più evidenti di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio riesce a trattenersi con l'ospite più in una conversazione amichevole che in un'intervista formale. La qualità del programma e la notorietà degli ospiti hanno fatto di Che Tempo Che Fa nel corso degli ultimi anni una delle più apprezzate trasmissioni televisive in Italia. Che Tempo Che Fa.